Vattone non arriva questa benedetta Vittoria per voi sembrava almeno un pareggio Invece poi è sfumato tutto Sì diciamo che stiamo lavorando molto La fortuna non ci assiste Piano piano il gruppo si sta amalgamando Purtroppo facciamo sempre dei piccoli errori Ci portano a perdere le partite, pareggiarle Bene, abbastanza rammaricata Adesso ci spostiamo da chi veramente Un po' la salvata in parte Un po' è capitolata Comunque i due portieri Mannella per l'Igolz Aprilia e Buzzi Sicuramente la palma del migliore Almeno per quanto riguarda la squadra avversaria Aspetta proprio a Buzzi Tantissimi gli interventi Alcuni veramente prodigiosi Grazie mille Intanto però sicuramente gli interventi Sì ne ho fatti Però se non c'era la mia squadra Sicuramente non saremmo arrivate alla vittoria Quindi grazie a tutta la squadra Alla difesa, all'attacco, al mister, a chi è stato in panchina E tutti gli altri che non c'erano oggi Mannella Dicevamo anche con Vattone per voi Il primo gol Aveva ridato fiducia Però poi c'è improvvisamente un calo di concentrazione E soprattutto sulla gestione del pallone Sia un po' troppo sterili Sì Noi sbagliamo in quello Lo dimostra il gol che abbiamo preso dopo 24 secondi Quindi come dice Fabiano Alla fine stiamo lavorando tanto durante la settimana Cioè alla fine c'è di positivo da questa partita Per quanto abbiamo perso Perché comunque iniziamo a fare gioco Però sbagliamo sempre l'ultimo passaggio Sbagliamo sempre il tiro in porta Però sono convinta che prima o poi la vittoria arriverà Perché comunque la squadra c'è Il gruppo si sta amalgamando E quindi piano piano i risultati arriveranno Allora quando c'è proprio il peso di raccogliere una vittoria E tarda ad arrivare Si fa ancora più pesante Si fa ancora più pesante Perché poi questa vittoria la stiamo contro la Roma Comunque abbiamo fatto una gran partita E meritavamo il pareggio Qui alla fine analizzando la partita Loro sono state bravissime Però gli abbiamo concesso sempre piccoli errori nostri Che poi hanno portato loro a fare i gol Quindi tutto sommato alla fine perdiamo Sì merito a loro Però perdiamo soprattutto perché noi non siamo concentrati Fino all'ultimo pallone Lo dimostra il terzo gol che abbiamo preso Quindi però sono convinta che piano piano stiamo lavorando bene E i risultati arriveranno Ci dobbiamo credere È normale Adesso la sconfitta pesa Pesa perché non vogliamo questa vittoria a tutti i costi Perché comunque dà morale Soprattutto per il lavoro che facciamo durante la settimana Quindi arriverà Vattone Non c'è un po' troppo un gioco precipitoso Soprattutto quando si sceglie di giocare la velocità all'1-2 Il possesso palla Bisognerebbe forse un po' ragionare Quando si è almeno dalle parti del portiere Sì sicuramente l'azione va ponderata È anche vero che abbiamo la frenesia comunque di vincere E quindi è normale che subendo call poi ci risulta difficile andare a segnare L'azione diventa frenetica e andiamo subito alla conclusione Bisogna comunque rimanere fiduciosi Sì fiduciosi Speriamo 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 Speriamo